Abbiamo già detto che ci furono diversi atteggiamenti da parte degli intellettuali nei confronti della cultura dominante, nei confronti soprattutto dei dettami che furono portati avanti da parte degli imperatori. Abbiamo detto che questi atteggiamenti sono riassumibili in tre tendenze. Innanzitutto l'opposizione netta nei confronti del potere politico e quindi la posizione di coloro i quali si allontanarono dalla adulazione e quindi ovviamente subirono poi la morte per essere andati contro la volontà del regime imperiale. In secondo luogo abbiamo detto che ci fu la volontà di alcuni intellettuali di non prendere una posizione chiara e pertanto ci furono intellettuali che trattarono argomenti o si occuparono di generi letterari che non potessero destare nessun tipo di sospetto negli imperatori. In terzo luogo invece ci fu l'atteggiamento di piena e totale adulazione, di adesione quindi ai dettami della politica imperiale. In particolare abbiamo detto che la storiografia che ci ha pervenuta da Giulio e Claudia è la storiografia cosiddetta neutra, cioè la storiografia che chiaramente non prende una posizione netta nei confronti degli imperatori e che quindi ovviamente è potuta sopravvivere proprio perché non si è trattato di un'opposizione al regime. Oggi in particolare tratteremo di questo tipo di storiografia, cioè della storiografia che ci ha pervenuta. E parto da questo quadro di Lorenz al Matadema, che è un quadro che si intitola La proclamazione dell'imperatore Claudio, che è un quadro della seconda metà dell'Ottocento, proprio perché comunque è un quadro rappresentativo di età Giulio e Claudia. Questo pittore è noto soprattutto per aver trattato soggetti di carattere classico, in particolare dell'antichità romana, sia negli aspetti privati sia negli aspetti pubblici. E questo appunto è un quadro che ritrae Claudio nell'atto di diventare appunto imperatore. Allora, partiamo quindi dal primo storiografo di Da Giulio e Claudia, ovvero Velleio Patercolo. Velleio Patercolo chiaramente è uno degli storici che adularono apertamente il regime. Velleio Patercolo è di origine campana, sappiamo che intrapresa una carriera militare, fu in particolare prefetto o legato, non sappiamo con precisione, ma sicuramente sotto l'imperatore Tiberio, e prese parte alle campagne in Germania, in Pannonia e in Dalmazia. Nel 15 d.C. fu pretore e poi non sappiamo che tipo di cariche abbia ricoperto o se appunto abbia ricoperto altri incarichi. La sua opera si intitola Storia Romana, ovvero in latino I Storie Romane Ad Marcom Vinicium Consulem Libri Duo. Ad Marcom Vinicium quindi sono dedicate a questo console Marco Vinicio. È un'opera in qualche modo monumentale, infatti è il primo compendio universale della storia e della cultura romana, dalle origini e finalità di Tiberio. Ha per modello fondamentale Deodoro Siculo, che è un altro appunto storico però che scrive in lingua greca, che appunto si occupò di trattare un'ampia sezione della storia romana, e quindi appunto è una storia che comprende proprio, diciamo, tutta la storia romana fino alle sue età contemporanee. Quindi da questo punto di vista comunque è un'opera importante che va sottolineata. Di fatto nell'impostazione dell'opera cambia un po' l'andamento narrativo, perché per quanto riguarda gli eventi passati, Belleio Patercolo tratta queste vicende in maniera piuttosto rapida. A partire invece dalla guerra civile tra Cesare e Pompeo, la storia si fa più particolareggiata e quindi personaggi come Cesare, Augusto e ovviamente poi Tiberio, che rappresenta un po' il fulcro della narrazione, diventano i protagonisti assoluti degli eventi trattati. L'ultima parte dell'opera storica è un vero e proprio paneggirico che viene rivolto a Tiberio, quindi è proprio smaccatamente adulatorio nei confronti dell'imperatore Tiberio. C'è di fondo l'asserzione, l'affermazione che man mano che ci si avvicina alla storia contemporanea, ci si avvicina a quel concetto di felicitas temporum, quindi ad una situazione decisamente positiva, ad una situazione da glorificare, proprio perché rappresenta l'apogeo della storia romana. Velleio senz'altro mostra interesse per la biografia dei personaggi che considera personaggi d'eccezione, quindi personaggi che hanno rappresentato un exemplum importante nella storia romana, in particolare appunto a partire da Cesare. Senz'altro è evidente un atteggiamento favorevole nei confronti sia degli italici sia degli ominas novi. Questo perché? Perché la politica tiberiana era una politica volta ad un rinnovamento, ad un ampliamento della classe senatoria, attingendo a forze nuove che fossero appunto uomini provenienti dall'Italia, quindi italici non soltanto romani, e appunto gli ominas novi. Ed è chiaro che quindi anche sottolineando l'importanza di questo tipo di politica, Velleio Patercolo assume una posizione adulatoria nei confronti di Tiberio. Andiamo a prendere in considerazione un secondo autore. Diciamo che Curzio Rufo, più che assumere un atteggiamento di adulazione nei confronti degli imperatori, fu uno di coloro i quali decisero di trattare argomenti cosiddetti neutri, quindi senza prendere una posizione netta, quindi diciamo che fa parte della seconda categoria, possiamo così dire, degli intellettuali, del secondo tipo di atteggiamento. Non sappiamo pressoché nulla della biografia di questo scrittore, ma abbiamo appunto l'opera di Curzio Rufo che si intitola Historia Alexandri Magni, composta senz'altro sotto il Principato e di Caligola e di Claudio. È un'opera che, diciamo, consta di dieci libri, i primi due libri però ci sono aggiunti mutili, quindi appunto non sono completi, e narra le vicende di Alessandro Magno dal 333 avanti Cristo, fino al periodo immediatamente successivo alla morte del 323. La ricostruzione degli eventi storici non è affatto una ricostruzione rigorosa. La biografia di Alessandro è in realtà una biografia romanzata, quindi quello che Curzio Rufo ricerca è soprattutto il diletto, il piacere quindi della lettura da parte del lettore, del fruitore, e quindi una sorta di romanzo, assolutamente non l'aderenza fedele alla realtà storica. In particolare Curzio Rufo esalta le doti militari di Alessandro Magno, la lealtà nei confronti delle truppe, la sollecitudine, l'attenzione nei confronti dei soldati, il fatto che conoscesse bene appunto i suoi soldati e si fidasse di loro, ma non trascura anche degli episodi comunque di crudeltà, di crudeltà diciamo così necessaria, nei confronti dei nemici. Sono anche presi in considerazione però i difetti di Alessandro Magno, le sue debolezze, in modo tale che Alessandro sia dipinto come una figura complessa, una figura realistica tutto sommato, anche se appunto le vicende sono decisamente romanzate. La narrazione quindi relativa ad Alessandro Magno è anche inframmezzata da discorsi che rispettano in maniera rigorosa le regole della retorica e sono presenti anche degli excursus di carattere etnografico e di carattere geografico. Questi excursus servono per inserire delle informazioni relative a popoli stranieri, diciamo cosiddetti popoli esotici, perché comunque sono popoli orientali. Veniamo ad un altro scrittore che invece come appunto Vellaio Patercolo si schiera nettamente in favore della, diciamo, dell'adulazione degli imperatori romani. In particolare appunto l'opera di Valerio Massimo si intitola Factorum et Dictorum Memorabilium Libri Novem ed è dedicata a Tiberio, quindi appunto smaccatamente adulatorio nei confronti dell'imperatore. Cos'è quest'opera? È una raccolta di fatti e detti memorabili, quindi una raccolta di exempla che riguardano sia comportamenti virtuosi ma anche comportamenti negativi di personaggi illustri e quindi compaiono personaggi storici di varia provenienza, personaggi romani ma anche personaggi stranieri. L'opera è organizzata per temi, quindi comunque sono trattati determinate tematiche e all'interno di quelle tematiche vengono presi in considerazione appunto i personaggi che hanno rappresentato quel tipo di vizio e quel tipo di virtù. Anche Valerio Massimo non possiamo definirlo uno storiografo rigoroso perché lui non vuole comporre un'opera, diciamo, di storiografia, un'opera storica, ma soprattutto si tratta di un prontuario di esempi utili per il retore quando deve costruire un discorso, a sostegno quindi delle argomentazioni che utilizza nel suo discorso, ma anche un'opera destinata all'intrattenimento, quindi appunto una doppia funzione. Inoltre, agli esempi che lui fornisce vengono anche affiancati dei commenti personali dello stesso Valerio Massimo che servono proprio per tirar fuori un po' una morale, diciamo così, di fondo. È chiaro che Valerio Massimo rappresenta proprio uno storico che aderisce pienamente al canone delle tradizioni romane e al sistema quindi delle virtù romane perché la maggior parte degli esempi positivi che egli riporta sono appunto esempi tratti dalla storia romana non a caso. Vediamo infine a considerare molto brevemente gli storici invece del dissenso. Molto brevemente perché di fatto di loro sappiamo ben poco poiché appunto le loro opere ci sono aggiunte soltanto per tradizione indiretta. Il primo autore che consideriamo fu Cremuzio Cordo. Cremuzio Cordo fu autore di un'opera storica intitolata Annales che aveva un'impostazione filo-repubblicana e chiaramente quindi i cesaricidi Bruto e Cassio erano considerati da Cremuzio Cordo dei veri e propri eroi perché avevano difeso la libertà repubblicana. Cremuzio Cordo fu processato nel 1925 e quindi condannato ma si suicidò di sua volontà per evitare appunto la condanna da parte di... la morte da parte di altri, per mano di altri. E infine ricordiamo Seneca il Retore che fu il padre di Seneca che compose le istorie a Binizio Bellorum Civilium anche queste appunto diciamo fondamentalmente filo-repubblicane. Ricordiamo ancora che a parte gli storici coloro i quali rappresentarono un aperto dissenso nei confronti del potere furono i filosofi stoici quindi lo stoicismo rappresentò sempre comunque una dottrina filosofica che incarnò proprio la voce della Virtus in contraposizione con la smaccata adulazione nei confronti del potere. Grazie. Grazie.